Abbiamo offerto la Cuccia ai bambini dell'asilo, che è stata una grande emozione. I bambini non sapevano, c'erano bambini che non conoscevano la tradizione della Cuccia. Cosa vuol dire Cuccia? Cuccia vuol dire Santa Lucia, vuol dire tradizioni antiche delle nonne che tramandano i bambini. Noi grazie alla Fondazione San Vito siamo un gruppo di nonne che abbiamo preparato questa Cuccia per far conoscere ai bambini le vecchie tradizioni, le tradizioni di una volta che si tramandano dai nonni ai nipotini. Sperando che sia un buon esempio per tutti, che questa è una cosa bella, che le vecchie tradizioni siano ricordate come le nonne. A Tempantica contiamo quattro cose, un po' di cicero, pure fave e poi ci mettiamo un vinicotto e non la mangiavamo. La Cuccia è frumento secco che si mette a bagno per tre giorni, cambiandoci l'acqua. Poi dopo che è cotta si può condire o con vinicotto o con il bianco mangiare, con il latte, con il miele, come fa piacere. Si può fare la tortina, ci sono diverse tradizioni per mangiare la Cuccia.